8 novembre 1987. In Italia si vota per il referendum in materia di giustizia e di energia nucleare. I cittadini sono chiamati ad esprimersi su cinque quesiti, due in materia di giustizia e tre sull'atomo, i cui risultati sanciscono l'abbandono del nucleare come forma di approvvigionamento energetico. All'indomani dell'esplosione della centrale russa di Chernobyl e con il prezzo del petrolio in caduta libera, dal referendum esce un'Italia denuclearizzata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.